Il ritrovo nel piazzale della Rocca di Cento, la sfilata di Labari in corteo accompagnati dalla banda Giuseppe Verdi, i discorsi di benvenuto con il convegno sulle vaccinazioni e poi la grande festa con la premiazione comunale dei donatori chiusa con lo spettacolo del duo Poltronieri Pizzocchi. La giornata mondiale del donatore di sangue ha avuto come filo conduttore il messaggio e l'invito al dono soprattutto in un momento in cui in provincia di Ferrara c'è una grave carenza per due gruppi sanguigni, zero più e da più. La situazione si risolve semplicemente sensibilizzando il più possibile le persone ad avvicinarsi al dono del sangue. Il dono del sangue è un gesto semplice in dieci minuti si può donare il sangue del proprio gruppo sanguigno si può aiutare una vita che ne ha bisogno. Purtroppo durante l'estate ma non soltanto durante l'estate ci sono momenti di difficoltà dove mancano eventualmente alcuni gruppi e allora cosa facciamo come Avis? Chiamiamo i nostri donatori di quei gruppi per sensibilizzare ed avvicinarsi nuovamente al dono e quindi donare in quel periodo però abbiamo bisogno di altri donatori abbiamo bisogno di altre persone che si avvicinino a noi in maniera tale che non succeda che vi siano momenti di difficoltà di gruppi sanguini. Si continua a fare l'utilità di prosiettilismo per inserirsi nel tessuto per essere sempre presenti e per continuare a fare dei nuovi donatori e continuare appunto la raccolta del sangue. Il problema che abbiamo in questo periodo è proprio quello di ridurre l'età media dei donatori che comincia a diventare preoccupantemente alto facendo delle azioni nei confronti delle scuole, nei confronti delle attività sportive, delle luoghi di ritrovo dove esistono e ci sono i giovani dove praticano attività coinvolgendoli, responsabilizzandoli e sensibilizzandoli al dono del sangue. Una festa quella del donatore di sangue che l'Avis provinciale di Ferrara ha organizzato a Cento. Devo dire che a Cento abbiamo due realtà, una è l'Avis e l'altra è la Fidas Renazzo che collaborano insieme, che lavorano insieme quindi credo che sia stata fatta anche una scelta per premiare questo modo di operare, questa collaborazione. Uno dei motivi per cui è stato scelto anche Cento è perché stasera annunceremo ufficialmente l'approvazione di questa convenzione che lega il Comune di Cento all'Avis provinciale e all'Avis di Cento nella nascita di questa nuova sede che avrà sede nella zona dell'ex stazione. Noi speriamo da qui al massimo un anno, quindi in sostanza ci rivedremo a giugno massimo luglio 2018 con veramente la sede operativa al 100%.